perché lunedì 20 rinizia uomini e donne allora ragazzi che cosa vi dico di questo uomini e donne non posso spoilerare molto però insomma è un uomini e donne super moderno è un uomini e donne non direi neanche troppo ai tempi del coronavirus perché insomma è relativo è uomini e donne come va vissuto è l'unico modo di fare uomini e donne in questo momento quindi sono anche molto curiosa di sapere quale sarà la vostra reazione noi abbiamo insomma fatto come al solito quello che che possiamo e quello che è anche rispetto alle nostre potenzialità in questo momento e rispetto proprio alle diciamo quelle che sono proprio le linee guida da rispettare assolutamente quindi insomma è un uomini e donne molto 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 al passo con i tempi come sapete ci saranno gemma e giovanna due donne a confronto due generazioni diverse due modi di vivere questo nuovo uomini e donne sicuramente in maniera diversa entrambi avranno la possibilità di conoscere delle persone attraverso la parola questo sarà l'unico modo possibile almeno per per il momento e niente sono curiosissima di vederlo insieme a voi perché ancora non ho visto la puntata montata sono molto curiosa l'ho vista ovviamente mentre la facevamo però insomma con il montaggio sarà sicuramente un'altra cosa e io ve lo ricordo questi giorni a rullo e so che ci state aspettando speriamo bene vi saluto ciao ciao viva il mare e vivo uomini e donne ciao